Il castello Carlo V è sorto in età normanna come residenza dei conti di Lecce, ubicato sul lato orientale della città doveva pressocchia corrispondere al corpo centrale quadrangolare dell'edificio cinquecentesco, delimitato agli angoli sud-est e nord-est dalle due torri superstiti, la torre maestra o magistra e la torre mozza. Con l'imperatore Carlo V, a partire dal 1539, avvenne la ristrutturazione del maniero medievale, terminata probabilmente già nel 1553, anno di morte del vicere Pietro de Toleto. Il progetto fu affidato all'architetto militare Gian Giacomo della Caglia, ingegnere generale del regno, progettista anche del castello di Acaglia, frazione di Vernole. L'edificio medievale fu sottoposto quindi ad una consistente ristrutturazione del nucleo interno e un ampliamento delle sue dimensioni, con la messa in opera di un'imponente cortina muraria, che andava a collegarsi a quattro possenti bastioni. I bastioni sono denominati della Santa Trinità e di Santa Croce, sul lato verso la città, di San Martino e di San Giacomo verso l'esterno. Il nuovo assetto a pianta trapezzidale, con i quattro bastioni a punta di lancia, risultò così più adatto ad un sistema difensivo basato sul tiro radente, connesso alla recente introduzione delle armi da fuoco. Al castello si accedeva dalla porta reale, e mediante un ponte elevatoio che oltrepassava il profondo fossato che circondava la struttura. Sul lato opposto, quello più sviluppato e fortificato, era invece collocata la porta falsa, o porta del soccorso. Nell'angolo nord-est del cortile è ben riconoscibile la struttura della torna magistra, articolata su più piani. Del periodo più antico, l'età angioina, resta l'impostazione architettonica e decorativa della volta a crociera con costoloni. Nel piano seminterrato è collocata la cappella della Madonna di Costantinopoli, che presenta un altare settecentesco, e tre medaglioni recanti agli affreschi di San Francesco di Paola, Santa Teresa e Santo Ronzo. Al di sotto della medievale Torremozza, in un piano seminterrato, sono state messe in luce le prigioni del castello cinquecentesco. Nel cortile interno si trova anche la cappella, tradizionalmente denominata, con il nome di Santa Barbara. Ma in realtà, dedicata all'Immacolata. Venuta meno la minaccia turca dopo la battaglia di Lepanto nel 1571, tutta la capillare opera di fortificazione del territorio voluta da Carlo V si avviò verso una lenta ma inesorrerabile decadenza. Tra la fine del Cinquecento e gli inizi del Seicento, il castello di Lecce ospitò un modesto presidio spagnolo, composto da un castellano e da cinquanta soldati. Dal 1690, il castello fu sede del Tribunale della Reggio Densa e, nel corso del Settecento, si ha notizia di un suo utilizzo come sede di civili abitazioni. Di proprietà comunale, il castello di Lecce è stato affidato alla direzione regionale del Ministero della Cultura. Si occuperà della sua gestione e della valorizzazione. Grazie. 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 Grazie.